bella a tutti ragazzi dello shock team qui è Diego Shock e Kevin Shock bella ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qui con un video un po diverso dal solito non portante di buone notizie almeno speriamo che siano buone ma non crediamo proprio diciamo che eravamo iniziati a farlo con la voce narrante ma non ci si dice proprio sembriamo degli idioti per cui le serve Sapudda ti salutiamo ciao Sapudda e comunque siamo qui per parlarvi di questo video come potete leggere dal titolo non lo dico nemmeno perché mi fa un po schifo parliamo di Call of Duty 4 Call of Duty 4 Modern Warfare Modern Warfare diciamo è il gioco che all'uscita ha stravolto le classifiche fin dai primi giorni si è stato miglior gioco dell'anno vincitore di 40 premi e 3 tra cui miglior titolo dell'evento G4 miglior gioco d'azione premio della critica migliore fps grafica e gamespot ign.com è uscito comunque il 9 novembre 2007 non so se l'hai detto si 9 novembre 2007 e questo gioco è ancora oggi giocato da moltissimi italiani e moltissima gente di tutto il mondo anche se pieno di challenge lobby e di connessioni strafalfare però è reputato da tantissima gente il miglior Call of Duty di sempre è anche da certi il miglior gioco che abbiano giocato finora dopo sono usciti altri giochi e ne usciranno di migliori o peggiori però però questo è passato ragazzi alla storia anche perché come dite le sue ricompense che dice Uav si era molto stabile era una cosa molto equilibrata tra gli avversari tutti avevano le stesse serie non c'era troppa differenza tra una classe e l'altra armi overpower armi meno overpower si si vede che il gioco è vecchio se facciamo un paragone con quelli nuovi si si vede la grafica è un po' più scadente il motore grafico più o meno è sempre quello comunque è un po' più scadente si può vedere da come sono fatte le armi e le cose del genere però il gioco è un po' più vecchio il 10 novembre 2009 facciamo un piccolo salto nel futuro esce Call of Duty Modern Warfare 2 che grazie al successo fatto da COD4 ha realizzato grosse vendite e ha spopolato anche lui le classifiche dei videogame da altre molte persone o comunque persone un po' più giovani è reputato anche questo il miglior Call of Duty sempre quindi c'è un dibattito tra questi due Call of Duty diciamo Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3 e Call of Duty 4 come vedete la grafica è sempre molto simile a COD4 il motore grafico non è stato migliorato di molto un po' migliorata però comunque è migliorato un po' lo schema le serie decisioni si sono ampliate e sono state più serie e con questa saga l'Infinity World diciamo ha fatto il boom ha fatto sì che siccome nel 2009 moltissima più gente ha avuto l'occasione di comprare PS3 o Xbox moltissimi più giovani hanno iniziato da questo gioco non da Call of Duty 4 e la gente era stata molto colpita da questo gioco e quindi sperava sperava eh ragazzi sperava in un futuro quello che non aveva portato Black Ops per molta gente che dicevano che Black Ops faceva schifo anche se a nostro parere è meglio di MW2 diciamo il nostro Call of Duty preferito è Black Ops però Call of Duty MW2 è stato il migliore di tutti chiamiamolo così anche se a noi non piace più di più ci sono stati anche i primi diciamo c'è chimi c'è il quick scope e tutte le cose sono nati su COD4 ecco però diciamo si sono specializzati su MW2 con l'intervention che divertiva milioni e milioni di giocatori ed era un gioco anche questo molto equilibrato la connessione non era troppo scarsa e le armi erano molto equilibrate tra loro con questo passiamo al capitolo che più ci viene da dire Dio martedì 8 novembre 2011 esce finalmente Call of Duty MW3 Dio schifoso c***o e con questo gioco l'Infinity World pensava di avere lo stesso successo che aveva ottenuto con i giochi precedenti e invece ha avuto un successo pietoso perché voi ragazzi tutti sapete quanto si è fatto bestemmiare questo gioco quanto faceva schifo questo gioco è stato molto gettonato nello stato del Vaticano si nello stato del Vaticano secondo me giocavano bene quel signore secondo me aveva la connessione migliore però diciamo che noi ci ha fatto bestemmiare tantissimo però tantissima gente l'ho acquistato tantissima gente ci ha speso dei soldi e del tempo perché nei calutiti precedenti era piaciuto si aveva avuto era diciamo uno status symbol era un marchio molto famoso e tutti comunque in ogni caso anche se dicevano che faceva a cagare l'hanno comunque preso si perché all'inizio non poteva sembrare così prima che si scoprisse questa moa questa moa queste serie di uccisioni squilibrate che quando tu prendi una bandiera fai un punto quando tu butti giù una guà fai un punto quando tu ti metti in mano del morto fai un punto seconda occasione e poi cosa c'era martirio ah voi si mi fanno dimenticato cioè io questo qua l'ho rimosso proprio dai l'abbiamo rimosso dai pensieri anche perché prima di vederlo ancora sul nostro canale dovete sapere che il prossimo anno si parla già ragazzi di Modern Warfare 4 si ragazzi Mv4 ma bisogna essere dei ristronzi però eh ebbene si ragazzi Modern Warfare 4 voci attendibili molto attendibili diciamo che girano sul web dicono che l'attore Bill Murray Murray come cazzo si chiamano me ne frego un cazzo comunque nella serie Modern Warfare interpreta la voce del capitano Price avrebbe rivelato ai microfoni di disease xbox di essere già al lavoro su Modern Warfare 4 questa frase è stata questa frase incriminata e rubata da un giornalista che casualmente si è trovato di fianco a lui comunque nel suo si diciamo questo giornalista ha orrigliato la conversazione di Bill Murray si sull'aereo si è trovato così per caso e ha detto che starebbero già lavorando già lavorando a Modern Warfare 4 e sarà un seguito di Modern Warfare 3 c'è ovvio scritto noi magari vi lasciamo i link in descrizione di quello che noi ora stiamo leggendo comunque non volevano fare subito questa cosa perché questa intervista questa frase è stata messa sul web due giorni prima dell'uscita di Black Ops 2 e forse magari è stata anche diciamo una cosa fatta apposta e questo sito che ha rivelato queste cose aveva già rivelato altre notizie che sono state del tutto vere sui giochi Sleeping Dog e Square Enix che non sappiamo cosa sia no Sleeping Dog lo so ma Square Enix non so cosa sia comunque Infinity Ward ha smentito subito questa cosa di non essere interessati a farsi pubblicità subito per dare spazio al nuovo titolo Black Ops 2 tutto è cazzato secondo me che però è stata smentita anche questa cosa sempre da uno che si è dimesso da Infinity Ward all'uscita di MW2 dicendo che loro hanno proprio una competizione contro gli archi inimmaginabili quindi hanno deciso dicono che può essere anche fatta apposta questa cosa di Bill Murray o magari di questo giornalista che è scendito la voce è stata fatta apposta per buttare già l'occhio un anno avanti a Modern Warfare 4 però sanno già che Modern Warfare 3 è stato una merda però sicuramente noi compreremo anche Modern Warfare 4 sì perché come direbbe Dredd i romani vestimiano meglio noi non siamo di Roma però vestimiamo anche noi sì e quindi sappiamo già che lo compreremo perché ci faranno vedere un trailer molto affiato un trailer molto affiato ci diranno no Last Stand fuck you Last Stand e magari dopo ci troviamo una vapa peggio magari diciamo mano del morto più Last Stand più Last Stand c'è Spari magari ci troviamo Double Last Stand che una volta ti uccidono dopo c'hai l'anima dello zombie che rinasci per invitare Black Ops 2 da zombie e poi comunque ti ammazza è una merda sicuramente sarà una merda no non possiamo dire che sarà una merda Modern Warfare 4 speriamo che non segua le orme di Modern Warfare 3 speriamo che facciano una cosa fatta bene se sarà poi Modern Warfare 4 comunque hanno detto specificatamente sarà un seguito di Modern Warfare 3 un sequel un sequel quindi ragazzi noi con questa notizia bomba anche se non è tanta bomba che potete trovare su web vi lasciamo vi diamo appuntamente al prossimo video che sarà nell'episodio del Rotto Commander speriamo che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi abbia fatto divertire perché questo è lo scopo ragazzi quindi ragazzi come sempre dallo Shock Team è tutto lasciate un bel like ma lasciatelo per noi non per Infinity Ward infatti e soprattutto per il buone nel vecchio Germano e bene ragazzi dallo Shock Team è tutto ma basta Dio Cristiano Ronaldo dallo Shock Team è tutto è bene ragazzi Yahoo Yahoo